I peccati di abuso sessuale contro minori da parte di membri del clero hanno un effetto dirompente sulla fede e la speranza in Dio. Vi chiedo perdono per quanti hanno tradito la loro missione e per quanti hanno taciuto. Sono parole forti e commoventi quelle pronunciate da Papa Francesco durante la messa celebrata presso la cappella della Casa Santa Marta alla presenza di alcune vittime di abusi da parte di membri del clero. Parlando in spagnolo il pontefice ha espresso tutto il proprio dolore per quanti hanno sofferto direttamente questo crimine sacrabile per le cicatrici che ha lasciato, per quanti hanno perso i propri cari che non hanno retto il peso dell'abuso e ha fermamente condannato i peccati di omissione da parte dei capi della Chiesa. Non c'è posto nel Ministero della Chiesa ha concluso Papa Francesco prima di incontrare personalmente le vittime per coloro che commettono abusi sessuali e mi impegno a non tollerare il danno recato ad un minore da parte di chiunque indipendentemente dal suo stato clericale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.